Non intende ritirare le sue dimissioni l'ormai ex assessore regionale alla sanità Luca Barberini Lo ha dichiarato stamani in una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni in una sala affollatissima sia da giornalisti ma anche da molti addetti ai lavori della politica e della sanità Non ritirerà le sue dimissioni senza che ci siano passi in avanti dalla controparte, leggasi la presidente Catiuscia Marini Barberini ha parlato di crisi politica nata perché all'interno del Partito Democratico c'è chi, come lui ed altri componenti, intendono innovare uscendo da logiche che appartengono ad un modo di interpretare la politica che non è più attuale Invece, ha detto, ho avuto la chiara percezione che il mio ruolo dovesse essere quello di un semplice notaio chiamato a ratificare decisioni altrui ha puntualizzato in uno dei passaggi più forti del lungo intervento Quelle scelte, ha detto, non le condivido ma il problema è sia di metodo che di merito Ho provato a chiedere un nuovo confronto alla presidente in vista della scadenza che non era immediata ma il 29 febbraio ma la risposta è stata la nomina dei direttori in mia assenza Sulle figure dei dirigenti, vero pomo della discordia, si è soffermato l'esponente folignate del PD I direttori generali, ha detto, non si estraggono dal bussolo come dalla tombola Non discuto le singole nomine ma il metodo La mia idea era di provare a cambiare la regione con chiari segnali di discontinuità A me starebbero anche bene i nomi, anzi, a dirla tutta, avrei preferito che ad esempio Emilio Duca restasse inassessorato perché conosce bene il meccanismo di questo settore Discuto invece a chiare lettere il nome di Urlandi Non per la persona, ma penso che in sanità, quando si è al governo da oltre 20 anni, è ora di cambiare frase sulla quale dalla sala è partito un applauso A chi gli ha chiesto cosa farà ora, si è limitato a dire Oggi pomeriggio sarò a Gualdotadino per andare a trovare al cimitero mio nonno Medaglia al valore civile per aver salvato persone con un'ambulanza durante la guerra Gli chiederò scusa perché faccio parte di un partito nel quale alcuni hanno definito me e la mia area la destra più becera Ecco, di fronte a queste accuse, nessuno dai vertici del PD mi ha difeso Luca Barberini, conferenza stampa per spiegare queste 48 ore sicuramente le più convulse della legislatura Marini-Bis Ci sintetizza in due minuti quello che è accaduto, le motivazioni soprattutto Lei ha detto non sto in un ruolo per fare il notaio Luca, scusate Sì, ho detto questo, non sto in un ruolo per fare il notaio perché voglio esercitare un protagonismo politico che è il ruolo che è il ruolo che indubbiamente mi appartiene quindi questo è un percorso, una sfida, è un obiettivo che ho in testa e che voglio perseguire che significa che nelle scelte voglio partecipare dall'inizio non essere sostanzialmente un comprimario, una funzione notarile che viene assolta alla fine ratificare decisioni prese da altri tutto qui, penso che posso dare che un gruppo, tante persone nel partito, nel gruppo consigliare possano dare un contributo importante valorizzare il lavoro di squadra è la sfida che è il percorso della mia storia ma anche il metodo che voglio utilizzare anche nella mia esperienza politica Lei ha detto in vent'anni ho fatto tante cose dal volontariato in Albania eccetera nella sanità invece c'erano sempre le stesse persone, il problema era questo? Nella sanità ma anche in altri ambiti è questo io ho provato a lanciare questo messaggio dire in alcuni settori strategici è necessario un ricambio non perché chi lo ha svolto non era capace ma semplicemente perché credo che le risposte migliori si possono dare se c'è quel necessario tasso di ricambio e di innovazione che oggi è assolutamente necessario oggi competenza, capacità di interpretare i bisogni ma anche di innovazione possono andare a braccetto, non c'è nulla di male Ha detto si prende qualche giorno di riflessione perché deve riposare ma anche per prendere qualche decisione di carattere politico? No, le decisioni di carattere politico le ho già prese quindi con serenità, con convinzione sono state meditate due o tre giorni di riflessione penso che mi debbano essere concessi per tutta una serie di questioni su alcune questioni ho qualche ferita, devo recuperarla quindi mi serve qualche giorno per riflettere poi una volta che siamo belli freschi, belli riposati già dalla prossima settimana si riparte con vigore e entusiasmo poi spero che nel frattempo ci sia questa capacità veramente di dare di interpretare questa necessità questo mettersi a disposizione per la squadra e questa necessità di provare a cambiare insomma l'Umbria non ha bisogno delle nostre beghe dei nostri litigi ha bisogno di risposte è chiaro che le risposte le dobbiamo saper trovare insieme in un lavoro di squadra non le può decidere solo qualcuno da solo un'ultima battuta, ha preannunciato per gli inizi di marzo una proposta di legge proprio in ambito sanitario ha parlato di un'azienda, l'idea di un'azienda unica ospedaliera tagli di direttori che comunque rappresentano ovviamente in questo momento punti di riferimento al fare una battuta sembra quasi un programma di opposizione che si aspetta soprattutto dal PD rispetto a questa proposta di legge? non era di opposizione perché questa cosa l'ho proposta anche quando ero consigliere regionale nella passata legislatura credo che sia una risposta che possiamo mettere a disposizione una proposta che possiamo mettere a disposizione della comunità regionale che va nel segno del maggiore efficientamento del servizio sanitario regionale della macchina che libera risorse da riversare sui bisogni e sui servizi sanitari che dà l'opportunità di garantire lo stesso livello di servizi ai cittadini in tutto il territorio regionale un governo unico, insomma riconduciamo tutta unità perché siamo una piccola regione in tanti servizi non capisco perché non possiamo farlo nella nostra regione che significa non sgovernare penso all'azienda ospedaliera l'azienda ospedaliera è un processo che va governato con l'appoggio, con il confronto con la università dove deve avere un ruolo determinante dove deve esserci la necessità di avere un'azienda se vogliamo con un solo cervello e due gambe quindi nel senso che una presenza un'azienda ospedaliera una quella su Perugia e quell'altra su Terni ma con un unico governo per cercare di efficientare e razionalizzare ancora più ma soprattutto per innalzare il livello qualitativo delle risposte che dobbiamo mandare ai nostri cittadini Chiudiamo con una battuta 12-5 fa 7 A parte che 13-5 fa 8 che è sempre però un numero rischioso 13 è un numero rischioso però l'8 ce l'aveva alla fine anche un bel numero ce l'aveva il Tardelli Tardelli ancora me lo ricordo che strillava oggi Marchesi eh oggi Marchesi però non sempre un numero non sempre un numero che non sempre un numero che dà buoni risultati qualche preoccupazione ce la dà guardi in questo in questo consiglio regionale il numero il numero più bello è il 13 quello che sta in panchina però è quello che serve grazie a tutti